Salve a tutti, bentrovati in questo nuovo video, un saluto da Max, parliamo del programma ore 14 dove troviamo un milo infante che rimprovera l'inviata, cose che non succedono tutti i giorni quindi per questo fanno notizia. Ci sono stati attimi di tensione oggi durante la puntata di martedì 20 di ore 14, il programma pomeridiano di Rai 2. Numerosi servizi trasmessi, in particolare si parla di cronaca nera. Vengono presi esattamente in esame i casi di Liliana Resinovic e di Alice Neri. Quest'ultima 32enne originaria di Raverino, madre di una bimba, era scomparsa da un paio di giorni quando il suo corpo è stato ritrovato nel bagagliaio di un'automobile in mezzo alla campagna. Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli sull'ultimo giorno di vita di Alice. Sul resto del Carlino un testimone fa sapere, dice, quella notte Alice Neri aveva baciato due uomini. Uno l'ha tirata per il col quando lei era in auto. Certo non è ancora proprio ben chiaro se l'uomo è Mohamed Galoul, il 29enne che è finito in manette. In collegamento con il luogo del ritrovamento di Alice Neri c'è l'inviata Olga Mascolo, che in pratica ricostruisce gli ultimi spostamenti della donna, per cercare di far chiarezza anche ai telespettatori. A un certo punto però Milo Infante la interrompe per riprenderla e dice, la macchina fa avanti e indietro e poi si ferma per circa un'ora. C'è qualcosa che non torna. Non è un passaggio da poco, Olga. A quel punto l'inviata risponde in modo piuttosto deciso e fa, pensavo di averlo detto, l'ho anche detto nella ricostruzione. In ogni modo Milo Infante ha colto l'occasione per ricordare al pubblico la vicenda di Alice Neri, il cui corpo è stato ritrovato lo scorso 18 novembre a Concordia sulla Secchia, provincia di Modena. Tuttavia gli imprevisti non sono finiti. Dopo il botte a risposta con l'inviata, infatti Milo Infante ha dovuto affrontare un altro momento, un momento totalmente imbarazzante. Mentre raccontava il caso di Alice Neri, si è sentita l'inviata dire, io voglio andare verso avanti, però vai avanti tu, che non mi piace stare qui. Il conduttore, piuttosto seccato, ha detto, chiudetemi l'audio con il collegamento per favore. E dunque, possiamo ritenerla una puntata piuttosto complicata, quella del 20 dicembre. Vabbè, non è che è successo niente di che, però sapete, anche quelle piccole cose fuori dagli schemi fanno notizia. Questo è tutto, signori, per questa news. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima. Rimaniamo informati su tutto, mi raccomando, quindi tornate a trovarmi su Pausa Caffè.